Ciao a tutti da Salvatore Massimo Fazio di Letto Riletto Recensito. Oggi recensiremo il libro d'esordio di Luca Marchioro, edito da GoWare Edizione, la casa toscana che in molti già conoscono perché si è affermata bene e nel prodotto cartaceo, ma ha principalmente utilizzato una strategia preco straordinaria nell'ebook e nel digitale. La copertina, eccola qui. Luca Marchioro fondamenta inquietanti GoWare Edizione. Giallo, appartiene proprio a un giallo, è un giallo semi-thriller potremmo dire. E' il romanzo d'esordio di Luca Marchioro che vi faccio anche vedere perché GoWare ha questa meravigliosa fantasia di mettere i propri autori in terza pagina, eccolo qui. E' ambientato dove Luca Marchioro lavora e vive a Tiene, in provincia di Vicenza, però non ha fatto l'errore che in molti scrittori fanno, in principio quando parlano di sé stessi. Bensì, però, riesce ugualmente a farci entrare gli ambienti dove vive. La storia che narra è quella lì di un omicidio che avviene in un hard rock café nella provincia vicentina. Cosa succede? Il personaggio, Divo, che sarebbe il Divo, così come appare sin dagli esordi, dal prologo, che è bellissimo, dove racconta che solitamente la domenica cosa si fa? Cosa fa una persona? Sta in famiglia, cambia famiglia o altro, per godersi il momento, la giornata familiare, mentre non è il caso di Divo. Comunque, Sia Divo assiste ad un omicidio. Essendo anche un detective, decide di indagare. E con chi indaga gli rimane un caro amico, nonché collega, e una intraprendente poliziotta, giovane, molto giovane. La bellezza di questo giallo d'esordio di Luca Marchioro sta nel fatto che ci sono intrecciati diversi, come un classico, nel giallo emergono diversi incroci, frattanto che si sta cercando una risoluzione per trovare chi è colpevole e perché, quali sono le motivazioni. E grazie al collega Gianni, che arriverà, che sarà molto vicino a lui, che arriverà a capire, a scoprire che cosa ne è venuto, cosa ne viene in auge. E quello che stupisce un attimino è che non tanto quando i nemici che lo vogliono morto, il personaggio, Divo infatti, rischia parecchio la vita, più volte ci sono dei momenti in cui ci sono dei racconti, c'è un capitolo che si apre con quello che assediscono i medici durante un ricovero per un problema, quanto il supporto familiare della moglie, che una persona spacca palle, diremmo da tutte le parti, per non utilizzare termini poco aulici. Però è giusto perché utilizzare questi, magari qualche termine che si avvicina alla crudezza, è importante utilizzarlo, ecco perché dire spacca, il binomio spacca palle, quanto è importante asserire il forte rapporto umano che emerge, grazie al collega Gianni di cui dicevo prima, e alla giovane ispettrice di polizia, anche lei di nome con la lettera G, Giulia. Un giallo che è un classico giallo, che ha però delle trasversalità innovative per come viene composto e come viene narrato e raccontato. Direi che la prova d'autore non è stata totalmente superata, ma lo è stato sicuramente invece superata come romanzo d'esordio di genere. Il voto che noi diamo è sette e mezzo e ve lo consigliamo perché è un'ottima lettura estiva, ma anche di qualunque altra stagione dell'anno e piacevolmente fa scorrere le pagine con dei bei colpi di scena che l'autore ha saputo imporre. Un aspetto che, una nota che devo fare, quella lì che un attimo fa, ho detto che sicuramente non è stata superata la prova d'autore, ma è il primo, è l'esordio. Però è anche vero che diversi racconti di Luca Marchioro appaiono in diverse antologie già pubblicate e che hanno avuto un riscontro parecchio positivo. Ciao a tutti da Letto di Letto Recensito, anzi no, come sempre erro, da Salvatore Massimo Faccio di Letto di Letto Recensito. Seguiteci nel sito salvatoremassimofaccio.it dove trovate il blog Letto di Letto Recensito e poi lì avrete tutti i contatti per tutti i social network dove ci troviamo. Ciao, Luca Marchioro, fondamenta inquietanti, GoWare edizione da poco uscito. Compratelo.